Musica Ben trovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. È un vero piacere avere quest'oggi con noi in studio Paolo Doglioni, Presidente di ConfCommercio Belluno, che saluto e ringrazio. Buonasera a voi. Ben trovato Presidente, grazie del tempo che ci dedica. Questo è un periodo certamente intenso per l'Associazione e anche per tutti i rinnovi delle varie cariche e naturalmente anche quella di Presidente. E qui ci sono delle novità importanti, giusto? Ma novità non molto importanti, comunque una continuazione. Io mi sono candidato, sono l'unico che si è candidato, perciò il 14 di maggio ci sarà questa elezione. Ma sarà un'associazione nuova. Cambieremo un po' tutto. Viene depotenziato il peso del Presidente per dare spazio ai giovani, finalmente, supportati da delle persone anziane e che hanno già fatto un ruolo all'interno dell'Associazione. Quindi non è solo i giovani, ma sono le persone che hanno fatto un lungo corso insieme a questi giovani che vogliono impegnarsi. Perché l'Associazione è un bene di tutti, ma è un bene importante per un territorio piccolo come il nostro. È indispensabile che un'associazione possa vivere. Deve vivere con persone che hanno voglia di lavorare all'interno, che hanno anche ambizioni e quindi sono particolarmente contento perché molti giovani mi hanno dato la loro disponibilità. Saranno in consiglio, ma saranno anche invitati, permanenti, in giunta. Proprio perché desidero cambiare un po' tutto. Ecco, lei ha una lunga esperienza, il mondo bellunese la conosce, una lunga esperienza nell'ambito associativo, nel mondo dell'economia. Questa comunque è per un ragazzo che si appresta a fare l'esperienza di cui appunto lei citava, è certamente formativa anche di crescita personale e professionale per un giovane, giusto? Sì, ma direi che noi diamo molto a questo giovane, ma il giovane dà molto a noi, all'Associazione. Perché, vedete, il continuare a fare le stesse cose in un mondo che è così veloce e dinamico è sbagliato. Dobbiamo ascoltare le voci del cambiamento ed è quello che noi stiamo facendo. Il mondo ci sta dando anche ragione. Siamo una delle associazioni migliori in Italia. Tanto è vero che io sono entrato in giunta nazionale, cosa che non era mai successa. Ma come numeri pesiamo poco perché siamo in pochi, anche se la percentuale di copertura è altissima. fra le più alte in Italia. I numeri, se guardiamo le percentuali, sono alte, ma in valore assoluto è quello che è la provincia, neanche 200.000 abitanti. Certo è che è un impegno comunque anche il suo ruolo. Quindi il fatto che non siano arrivate altre candidature fa capire anche quanto difficile sia comunque. Diciamo che è impegnativo, ma sarà impegnativo per la squadra nuova che sarà in prima linea. Io darò un'occhiata, assisterò, però veramente devono agire loro, altrimenti non andremo da nessuna parte. Ecco, quali saranno le priorità fin da subito, Presidente? Le priorità sono le idee, noi lavoriamo di idee, servono i soldi, ma prima dei soldi servono le idee. Io cercherò a Roma di portare avanti con il mio ruolo di responsabile italiano per le politiche della montagna, cercherò di portare avanti un qualche cosa che possa aiutare questo nostro piccolo territorio. Ma dovranno essere proprio i giovani, gli artefici, i promotori di un cambiamento molto forte. Quello? Ecco allora, intanto Presidente, buon lavoro anche per questo nuovo corso, diciamo, della sua attività, questo rinnovo appunto alla guida di ConfCommercio. Adesso parliamo di alcune tematiche che sono trainanti, naturalmente, nella vostra attività quotidiana. L'anima di Belluno è sicuramente l'anima e l'occhialeria, dall'altro lato è il turismo, no? Il mondo economico della montagna bellunese si regge su questo. E sul turismo adesso davanti abbiamo passato i ponti primaverili, adesso c'è la stagione estiva. Che cosa vi attendete anche? Quali sono le prospettive? Ma le prospettive io credo siano buone. Siccome dicono verrà un caldo fortissimo, la gente va in montagna perché qui stanno bene e vivono bene. Perciò saranno spinti. Ecco che dobbiamo accoglierli bene insieme a tutto quello che rappresenta il territorio, compreso i nostri prodotti. Io sono favorevole a promuovere i prodotti latero caseari che abbiamo, il nostro pastin, tutti i prodotti che noi produciamo in questo territorio. Perché l'ho detto molte volte. Una volta si spedivano cartoline, oggi si torna a casa con un pezzo del territorio. In genere un pezzo da mangiare del territorio, sia una cosa o sia l'altra. Io lo faccio sempre. Quando vado da qualche parte, se hanno la carne la porto a casa, se hanno dei vasetti di prodotti vari li porto a casa, perché è un ricordo del viaggio. Quindi il turismo insieme al territorio, e sono bravissimi questi agricoltori che lavorano in montagna perché è più faticoso che lavorare in pianura, però è quello che il turista si aspetta. Ed è un modo anche di riappropriarci, se vogliamo, della nostra cultura, della nostra identità italiana. Sicuramente sì. Voi pensate che il Veneto è il numero uno per presenze turistiche di stranieri in Italia. Il numero uno. E gli stranieri che cos'è che cercano? Cercano il diverso. Non vanno a cercare quello che trovano sotto casa loro dove abitano. Perché? Perché è così la curiosità, l'esperienza. E quindi io sono convinto e mi auguro sia una buona stagione, anche perché ne abbiamo bisogno. In un momento come questo, dove i costi continuano a crescere, dove le difficoltà sono notevoli, e anche il discorso del personale è una nota dolente. Noi stiamo lavorando, abbiamo lavorato come Commercio Nazionale, con l'Unaie, con l'architetto Oscar De Bona, per fare proprio un protocollo di sinergia, per far arrivare della gente a lavorare qui da noi. Non ad avere il passaporto per poi andare da qualche parte, ma per diventare nuovi bellunesi, nuovi italiani. E su questo si assomma però il problema della carenza degli alloggi, tema che è stato dibattuto anche di recente in un convegno a Villapatt. Ma io ho un'idea. Abbiamo tanti alloggi che sono abbastanza faticenti. Questa gente che arriva quasi sempre ha una grande capacità nel campo edile. Bene, perché non si trova con dei comuni, della roba, l'acquisto di questi beni che altrimenti andrebbero diroccati in breve tempo, vengono dati a questa gente in qualche maniera, questi si li mettono a posto e poi pagano un affitto molto basso e alla fine lo riscattano questo bene, già all'inizio. Però devono rimanere a lavorare qui da noi. La mia paura, la mia preoccupazione è che uno vuole il passaporto per poi andare a lavorare in Germania, in Svezia, in Inghilterra. No, se vengono qui devono rimanere qui a lavorare da noi. Ecco, questa è la sollecitazione che viene lanciata. E tra l'altro il problema della denatalità verrebbe in qualche maniera compensato. Anche sulla denatalità ultimamente ho tenuto piccoli incontri in cui dicevo che nel 1971 ogni ragazzo giovane aveva un anziano. Oggi ogni ragazzo giovane ha 5.5 anziani. Questo la dice lunga su questo. E siccome non vengono più fatti figli e per 25 anni, anche se tutti si mettono oggi a fare dei figli, ci vogliono 20-25 anni perché questi vadano nel mondo del lavoro, noi ci troveremo ogni anno peggio. Quindi abbiamo bisogno di questa gente. Tutte queste case che si vedono fattiscenti e roba, acquistiamolo e cerchiamolo in qualche maniera. Poi diciamo cose vivibili, non intendo baracche. Questi li mettono a posto, già si combina il prezzo con l'affitto, alla fine questa casa diventa sua e ecco che questi magari hanno 3-4 figli che cominceranno a vivere qui, a crescere qui, a diventare bellunesi. E anche su questo dobbiamo guardare alle donne. Alle donne in che senso? Dobbiamo far sì che la donna che lavora ha due lavori pesanti anche se il marito gli dà una mano. E quindi asili nido, scuola, a tempo prolungato, specialmente i ragazzi, ecco che crescono in un ambiente dove si scambiano opinioni, tornano e la donna è libera di poter lavorare. Potenziare i servizi, ecco questo è il tema centrale. Non possiamo pensare che una donna possa far figli e come fa a mantenere la famiglia se non c'è qualcuno che tiene questi piccoli in maniera... Senta, Presidente, volevo portarla adesso sul tema della formazione sempre legata al turismo perché qui in provincia, come noto, abbiamo l'ITS Turismo, voi siete stati fra i promotori di questa realtà in ente camerale, nella sede dell'ente camerale e di recente c'è stato anche un grande capitano d'impresa, giusto, che è venuto a portare la propria testimonianza, un suo amico. È un mio amico, un caro amico, un giovanissimo 92enne, è Arrigo Cipriani. Arrigo Cipriani porta sempre una ventata di ottimismo, di capacità di fare e io lo ringrazio sempre. Quando lui viene io lo chiamo, è gentilissimo, è venuto a tenere piccoli discorsi agli studenti dell'ITS Turismo, i quali sono rimasti entusiasti da Arrigo Cipriani, da quello che ha detto, tanto che Arrigo ha invitato tutti questi componenti a mangiare da lui e mi pare a ottobre mi ha detto, senti, procura un pulmino, li porti giù, vengono a mangiare da noi e sicuramente a ottobre li porterò giù perché vedano ancora una volta proprio sul campo come si fa turismo. E quindi anche il mestiere diciamo che si tramanda proprio di generazione in generazione. Tra l'altro i nostri uffici formazione, gli uffici di commercio formazione, stanno lavorando benissimo. Anche qui spezzo una lancia proprio per questo nostro comparto che è indispensabile per chi vuole aprire una qualsiasi attività. Noi stiamo lavorando molto bene. Perfetto, allora Presidente, io la ringrazio davvero del tempo che ci ha dedicato. Naturalmente noi abbiamo toccato solo alcune tematiche che rappresentano la grande e corposa attività di Confcommercio Belluno. Buon lavoro a lei, ci rivedremo naturalmente presto. Grazie a voi. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto. Arrivederci!